La notizia aveva fatto molto scalpore, aveva travolto il tribunale di Tempio Pausania. Parliamo della vendita giudiziaria della villa Baia Sardinia dell'imprenditore arzachenese Sebastiano Ragnedda. Vicenda iniziata nel gennaio 2016, per la quale il giudice Alessandro Di Giacomo era accusato di turbativa d'asta, l'ex GIP Elisabetta Carta di rivelazione di segreti d'ufficio. Ebbene, per i giudici del tribunale di Roma che hanno emesso la sentenza, non vi è stata nessuna collusione tra gli imputati, nessun condizionamento nella vendita giudiziaria. Tutti assolti, lo rivela Lanza, che spiega che l'ex GIP del foro di Tempio Carta è stata assolta perché il fatto non sussiste. Assolti da ogni accusa anche gli avvocati Giuliano Frao e Tomasina Madori, per non aver commesso il fatto. Erano accusati di essere coinvolti nella presunta asta pilotata. Assolto anche Ermanno Giù, all'ingegnere Olbiese, accusato di falsa perizia perché il fatto non costituisce reato. A difendere i cinque imputati sono stati gli avvocati Antonello Desini, Giovanni Azena, Filippo Dinacci, Fabio Varone, Antonello Fadda e Gian Domenico Cagliazza, che ha rappresentato Alessandro Di Giacomo. Il giudice era stato sospeso da tutte le sue funzioni nel 2017 e da allora non ha più lavorato.